Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un vivace dibattito sulle attività sanitarie correlate alla cura delle patologie cardiovascolari nella regione Calabria nel tentativo di frenare la mobilità passiva verso altre regioni. Una discussione che ha rafforzato la necessità di incrementare le prestazioni sanitarie, soprattutto potenziando il centro pubblico universitario, il primo ad avviare le attività cardiochirurgiche in Calabria per combattere in modo proficuo le migrazioni sanitarie. Gli ultimi dati del Ministero della Salute si sono rivelati di assoluto rilievo. Si registrano progressivi miglioramenti nel corso degli ultimi dieci anni e diventa fondamentale informare in modo costruttivo i cittadini calabresi che necessitano di cure per malattie cardiovascolari. Il direttore della cardiochirurgia dell'Università di Catanzaro Pasquale Mastro Roberto ha tenuto una conferenza stampa in cui ha fornito chiarimenti su questi argomenti. La cosa importante è che i risultati ministeriali sono andati progressivamente sempre migliorando dimostrando che questa cardiochirurgia universitaria ha dei livelli certificati dal Ministero della Salute che sono di assoluta eccellenza e che non hanno nulla a che da invidiare a cosiddetti centri del nord. Ma anche questa è una cosa che va sfatata. L'obiettivo è aumentare i numeri perché, come già ho detto più di una volta, non c'è la possibilità di azzerare completamente la mobilità sanitaria. La mobilità sanitaria purtroppo esisterà sempre, però ridurla deve essere un nostro compito primario. E per ridurla servono delle risorse in più. Mastro Roberto ne ha approfittato per presentare il programma scientifico del settimo simposio Magna Grecia Ortic International Project che si svolgerà martedì 22 e mercoledì 23 giugno. Un appuntamento di rilievo internazionale che quest'anno si svolgerà in forma live streaming con la partecipazione di esperti mondiali provenienti da Stati Uniti, India, Giappone, Corea del Sud, Belgio, Francia, Germania, oltre che Italia. Ci sono pochi convegni che riescono a mantenersi nel corso degli anni e a diventare seriali, quindi il convegno di quest'anno purtroppo lo dobbiamo fare live streaming, quindi ci dà un impegno diverso, organizzativo e ancora una volta quest'anno ci saranno relazioni da tutto il mondo.